Così è combina? Così è combina? Ti ho buttato la roba dentro? Non lo so, non lo so! Non lo so, non lo so, non lo so! Non lo so, non lo so! Non lo so, non lo so! Guarda la roba che schifo! Avete visto che hai tentato? Che hai tentato? Che hai tentato che hai tentato? Il conto bene vecchio! Avete intimo! Si? Si, perfetto! Delinquente! Ma c'è un tentatore che sta arrivando! Attenzione, un tentatore! Sembra un fedain! Sembra un fedain! Si tratta! Ma non succede niente, attenzione! No, no, no! No, no, no! No, no, no! Guarda qua! Non si può! Non si può! Lui è il tentatore numero uno! Avete visto che si ha tentato? No, no! No, no! No, no! Non toccatemi la telecamera, se no YouTube! Basta ragazzi! Basta una vergogna! Basta una vergogna ragazzi! Basta una vergogna ragazzi! Basta una vergogna ragazzi! Basta una vergogna ragazzi!